L'iniziativa dell'Associazione Giro Tondo Ogni anno noi facciamo un concorso grafico nelle scuole elementari e medie della provincia di Viena. Il vincitore di questo concorso grafico viene realizzato con il suo disegno un piatto di Natale. Quest'anno il piatto di Natale rappresenta la fontana del santuario della Madonna di Azzoglio di Crevacuore, sempre in provincia di Viena. E viene venduto qui in queste giornate presso il supermercato di Seluga a 10 euro. Di questi 10 euro circa il 50% viene investito in progetti di ricerca sull'atropia muscolare spinale.